Non trovo, non trovo. Io a parlare con Zelensky, se fosse stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili, bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbassio e questo non sarebbe venuto. Quindi io giudico molto molto negativamente il comportamento di questo signore. Senta, è la Meloni che dice che per arrivare alla pace bisogna far sì che i due eserciti si equiparino militarmente, lei non condivide questa cosa? No, io per arrivare alla pace penserei che il signor Presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli che è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina, un piano Marshall di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 miliardi di dollari a una condizione che più domani ordini cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ci daremo più dollari e non ci daremo più altri, soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessato a fuoco.